Traffico molto sostenuto in via Zermanese ai confini fra Treviso e il comune di Casier all'altezza di Dosson dove si trova la caserma Serena. Negli ultimi anni sta creando forti problemi alle case circostanti, ai pedoni che attraversano la strada ma anche a chi si trova per correrla in bicicletta. Che venga ultimata la pista ciclabile fino al cavalcavia e che vengono eseguiti i lavori della piazzale della caserma. La piazza della caserma Serena è attraversata da una pista ciclabile che parte dal terraglio, corre lungo via Pindemonte arrivando su via Zermanese e terminando bruscamente su un ponticello dove però diventa impraticabile continuare la strada in bici in quanto manca una parte della pista ciclabile fino al cavalcavia, esattamente 180 metri che possono trasformarsi in un tragico palcoscenico vista la velocità spedita con cui corrono le macchine. Dal centro di Dosson fino al cavalcavia è tutto un drizzanolo e naturalmente la tendenza di pigiare sull'acceleratore viene spontanea. I cittadini chiedono che la loro qualità della vita e la sicurezza personale non vengano impattate negativamente dal traffico garantendo così a tutti il diritto alla mobilità in qualsiasi sua forma. E' già pronto il progetto, il progetto di risistemazione del piazzale dove verrà realizzata una rotonda al posto dell'incrocio a raso e verrà posta una rotonda e così sicuramente il traffico sarà limitato come velocità. Al prossimo episodio